Ok, bella raga, oggi siamo qui in località Cirimilla, a Lerma, e ci prepariamo a scendere per la prima discesa in questo bellissimo anello cross country che ci porterà in prossimità A dei laddita la Lerma, in questo caso, a dei laddita la Lerma Grazie a tutti 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 Grazie a tutti